Dovendo stilare una graduatoria, per importanza è probabilmente il primo progetto della Bolzano Futura. Parliamo della riqualificazione dell'areale ferroviario, un piano di recupero che interessa un'area di circa 475.000 m2, risultante in prevalenza dalla dismissione delle aree ferroviarie e dall'acquisizione di alcune aree sul lato est, necessarie per permettere lo spostamento del tracciato ferroviario. Assieme al restyling dell'area della stazione delle autocorriere potrebbe rappresentare un fattore di fondamentale importanza per l'urbanistica del capoluogo. Oggi a Bolzano è stata firmata l'intesa preliminare con la quale in sostanza si dà concretizzazione alla collaborazione tra provincia, comune e società del gruppo ferrovie dello Stato per un'azione coordinata. Questo progetto diventa un progetto fattibile per quanto riguarda le esigenze del gruppo delle ferrovie dello Stato. Con oggi, e quindi con la sottoscrizione, si avvia il percorso attuativo. La città dovrà inserirlo nei propri strumenti urbanistici e poi la società di scopo realizzata dovrà mettere in atto quello che è lo spirito del progetto. C'è la possibilità di realizzare questa variante ferroviaria. Si tratta di eliminare il tratto ferroviario all'interno della città e spostarlo più prossimo al corso del fiume. Sarà la più grande iniziativa di sviluppo urbano dei prossimi decenni. A Bolzano ne sono convinti tutti gli attori che oggi hanno siglato l'intesa. Ci saranno i prossimi passi di inserimento nel piano urbanistico e poi partiranno i lavori preparatori per mettere a bando questo progetto. Saranno investimenti complessivi che ammontano un miliardo di euro. Solo la stazione, lo spostamento della stazione, costerà 260 milioni, ma il progetto si autofinanzia. Non dovremo mettere soldi del contribuente. La stazione, lo spostamento della stazione, costerà 200 milioni, ma il progetto si autofinanzia.